Nella parte precedente La 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 che cazzo chi siete voi via ciao a tutti ragazzi qui è dingo falco dingo file e adesso parimo fogo painter parimo fogo painter gioco che i vostri admin preferiti i vostri admin youtuber quello che è odiano di più insomma no ci saranno sempre i palloncini quello che odio di più saranno sempre qui i palloncini ok che si sblocca più avanti per chi non lo sapesse ma questo qui è odioso per fare punti dobbiamo prendere le casse casse mio casse te la lascio io no 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 l'ho preso il topone ti ho preso io la cosa bella che bello la prendo io vendetta dix dobbiamo battere gli altri ma non ci vuole niente è una pirlata si infatti tu sei quello che ha fatto meno punti dai zitto ti ho fermato poco siamo pari però topone no l'ho preso guardate quanti punti ha al computer è una cosa incredibile 22 wow è quello che aveva fatto meno punti io eri perfizio prendiamo il topone no l'ho preso no l'ho preso ieri il topone muri ho preso il topone farò tutto il campo farò tutto tutto il campo ecco un po' di merda ma che cazzo veramente 22 punti dopo le pulsole di merda anche BOOM sono troppi riferimenti a altri video nei video di crashback ah si BOOM mi hanno preso ti ho preso io così tu hai mi hanno fatto 200 100 punti in più quasi ragazzi ragazzi diciamo è molto difficile 98 punti fai il collo di falda eh ho quasi lisciato qualcuno voglio quelle scarpe Nike ultimo livello come sono fighe ultimo livello mia prende il topone finalmente scarpe vizio non ha mira con i missili ma l'ho preso scarpe aaaaaaa la 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 ciao il trucco uno dei tanti trucchi devi andare sul bordo che il bordo non se lo caga nessuno muori grazie falco sei proprio giusto gentlo falco ti bevi che lancio ciao coco mio ma stiamo non perdendo non va bene noi perdiamo sempre qua stiamo cercando di uccidere a vicenza mi raccomando questo è facile guardia fu ma tu lo sai che mi pare che la gemma di questo sarà no ci sarò di questo bello devi fare infatti i nemici solo con puoi fare solo un quadrato diciamo quello che vale i più punti e ti rimane solo quello con un punteggio fu vabbè eviti lanci io ho vinto con 64 zero non è vero il massimo è 50 60 però abbiamo fatto schifo adesso abbiamo fatto solamente 30 40 13 punti meno apri io 4 un po' di merota io mi faccio tutto il quadrato per te perchè mi hai colpito io non ti ho preso io sto facendo il quadrato guarda boom cassa scarpe scarpe diede cassa ragazzi scarpe scarpe perchè non hai girato ma perchè non mi fai fare le citazioni latine scarpe diede ragazzi scarpe diede oggi pesce e scarpe no carpa carpa no oggi pesce oggi pesce vabbè oggi carpe altra fuori ehi ho fatto tutta una fila muori dix non mi hai preso scarpe scarpe ha preso qualcun altro scarpe 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 topone muori muori topone levati al caprio 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 levati dal caprio prende coco dietro in che senso ci piacerebbe eh eh coco non mi diceva te i dix coco ehi ho fatto un poco più punti di te mi ha fatto molti più punti di prima 200 punti in più di loro tipo mamma mia mamma mia nel senso bull no mamma tua ok mamma mia infatti mamma mia adesso prenderemo anche la c'è mai c'è mai c'è quale c'è c'è di francese ricchione silenzio brucia 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 bruciassi che dobbiamo fare non lo so fare 180 punti nel tempo in nel tempo mi sa che è meglio che non ci mettiamo a vicenda no ma è facile mi considera che prima abbiamo chiuso nella peggiore partita a 190 cazza mia l'altro è tua io blocco brio ma sei te io io blocco brio che cazzo dico nei video ragazzi ecco a voi il titolo di questo video io blocco brio concentriamoci un pochino un pochito un pochio un pochino boom dix mi hai fatto perdere tutti i punti che avevo in serio? si mi sono saltati sulle case mi sono saltati sulle case prendi quella abbiamo vinto abbiamo vinto 9 secondi la gemma difficilissima brio che vola non ho mai capito perchè poi le gemme sono verdi si 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 quelle quelle ma sono gemme e la forma gemma idale ci sono anche il gemme blu e le gemme di brio e i cristalli senti chi parla di cristalli citazione vento vento carica ma perchè io leggo sempre solo vento io la carica dei cento venti vinci senza toccare i funghi uh me lo ricordo questo ti escono i funghi in bucco ecco vedi stava uscendo l'ambucco e alla fine il trucco è non prendere quelle scarpe che ha preso il tuo fungo stavo per scadere sul fungo io ho ucciso un fungo no no stavo uscendo un fungo io non ho ancora preso una scatola scatola cassa stiamo vincendo si pure levati in brio quasi stiamo perdendo levati in brio lo stiamo perdendo scappe scappe fungo ha preso fungo eh ditemi cosa posso fare un fungo ringraziamo i creditori del gioco per l'ho detto così soriosamente bello gentile bello un fungo un fungo un missile non prendere scarpe scarpe levati topone scarpe ho le scarpe levati topone cassa 18 topone no stai riprendendo a mio site io devo bloccare il brio ucciso un altro fungo io stavo per prendere un fungo l'uccisore di fungo lo sai che se perdiamo se lo prendi perdiamo assolutamente lo so vinci senza prendere i funghi ahhh perdi cioè stavo già sopra quando è uscito il fungo io farò caso a questo gioco per avermi fatto perdere per avermi fatto perdere chi la fai? è una naughty dog che non lo prende più non lo prende più non lo prende più non ce l'ho né della naughty dog infatti questo gioco fu quindi puoi farlo non lo so è un gioco di 13 anni fa ve lo puoi farlo fu io ti farò a causa ho preso il topone mandalo in garanzia ti prego? ho uccidere un fungo ho ucciso il fungo è utile uccidere i fungo pensarci bene pure io la vita era per il topone però è uscito brio non ti preoccupare ci penso io brio ehhh falco insomma ok abbiamo svelato in tutti i video a questo punto i nomi degli admin youtuber so quello che siamo sono io che dico admin youtuber so quello che siamo ma noi non siamo niente siamo dei coglioni stai zitto stai zitto siamo dei retro gamer ragazzi dei hardcore retro gamer esatto vedi quella è la nostra difusione io ora l'obiettivo era non prenderli fuori oh abbiamo gli stessi punti falco certo Dix no Dix Dix quanti punti tenevano in più loro in due non te lo aggiungevano i punti miei e tuoi miei miei intendo i miei il pisello di Dix non ci posso pensare a quanto è stupo guardate quanto è figo tra l'altro il coso che mi permette di saltare due dingo la cassa è mia la cassa è mia guardate quanto è figo rosso con le fiamme con le fiamme? si le fiamme mentre brio ha mentre brio ha blocca brio brio non farà i punti mentre brio ha semplicemente il jetpack a passare dietro no 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 guardate brio triste no fare il colpo di notre dame in quella post il blob il blob di notre dame il minullo di notre dame ragazzi vi consigliamo vivamente l'applicazione jetpack brio ride scaricabile gratuitamente scarpe da corsa non delle grandi scarpe le scarpe grandi falco tu hai niente da dire sull'applicazione sul tuo dingo dial no non c'è nessun dingo joy ride qualcosa del genere no perchè questo non è un jetpack non so manco come si chiama sto coso con cui si salta flamethrower lanciafiamme non so lanciafiamme come si dice in inglese no quello è pokemon in poche mese cioè il pokemon in inglese dice flamethrower poche mese pochi mesi se è una fissato una ho fissato stai zitto anche tu sei albini della pagina si ma io non ci sto perennemente sopra l'ha messo falco l'ha messo no 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 vuh stavo scendo ma fanno anche le finte i funghi no diciamo se lì pesti al momento giusto non è non è topone topone che è ma guarda i funghi vicino alle levati vicino alle levati vicino alle levati mi vicino alle levati secondo titolo oddio 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 non vede io prendo brio il titolo no io blocco brio ha fatto una finta e un fungo mi ha salvato allora stiamo fermi non prendere più le scappe stiamo fermi mi gabbiano abbiamo vinto no no non so dove prendere cazzo fungo fungo non vedo non vedo non vedo aiuto uccidi il fungo rimani qua sotto vedi così non sicuro non li prendi te ne esce uno sotto i piedi vai coco muori eheee muori coco lasciala a me lasciala a me me ne stanno uscendo tu sotto i piedi ti aspetto aspetto coco no io rimango fermo rimani fermo abbiamo vinto rimani fermo no rimani fermo rimani fermo ti ho fatto 7 punti fila 110 punti io 120 scarso di che pazzo siamo riusciti a fare questo a fare questo cristallo abbiamo fatto un cristallo adesso carica di nuovo il mento e possiamo dire che da dingo dial e brio è tutto brio si dice brio noi vi salutiamo salviamo la partita ci vediamo al prossimo episodio questa è la partita di falco dingo win 109 si e ho preso tutte le cristalli gemme e queste cose non ho non ho non ho preso i ciavo di ultimare qua tra l'altro per salvare ok ciao a tutti eheee ciao no 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 l'ho preso il tocone oh no l'ho preso io l'ho preso io che bello la l'ho preso io boom vendetta mi hanno preso io grazie falco sei proprio gentile falco stiamo cercando di ucciderarmi che mi raccomando questo è il fatto cassa mia basta è tua io blocco brio basta brio basta brio io blocco brio stai da qui io blocco brio che cazzo dico un po' gombrini dix è utile uccidere il fungo eheh dite mio cosa la faccio fare un fungo un fungo stavo per scadere sul fungo io ho ucciso il fungo ho ucciso l'altra fungo ho ucciso il fungo ho ucciso il fungo l'uccisore di fungo è un po' giovane è un po' giovane è un po' giovane quindi qui dite è un po' giovane ora è una di un po' giovane Grazie.